Eccoci ben ritrovati, apriamo questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia parlando di un importante evento che si è svolto ieri a Giarre, una vera e propria gara di solidarietà per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla fibrosicistica. Ce ne parla Lucio Di Mauro. Sono state le note del premio Oscar il compositore Nicola Piovani, ospite d'eccezione, a dare il via a radice pura a Giarre alla gara di solidarietà per la sesta edizione del fundraising dinner, doniamoci, a favore della ricerca sulla fibrosicistica, la grave malattia genetica più diffusa in Europa senza ancora una cura risolutiva. Questi eventi servono perché lo Stato non ci dà la possibilità, sta tagliando sempre più fondi alla ricerca e quindi siamo noi nel nostro piccolo a cercare di fare qualcosa affinché questi ragazzi possano avere una prospettiva e un futuro. Ne parlo in cognizione di causa perché sono genitori di un ragazzo affetto da fibrosicistica che è stato trapiantato nel 2019 e oggi grazie a questo trapianto è qui con noi questa sera a godersi questa bellissima serata. È fondamentale perché oggi questo evento tra l'altro è diventato l'evento più importante in Italia per la raccolta fondi contro la fibrosicistica. Era una cosa inimmaginabile otto anni fa. Quando ci siamo riuniti assieme a quattro amici io ho avuto quest'idea e mi sono mi sono prodigato subito a chiamare qualche amico praticamente, lui Sebi Sorbello perché volevo organizzare questo show cooking dove oggi ci ha portato oggi 60 chef e qui da qui una decina di chef stellati. Ho chiamato Ruggero Sardo, ho chiamato praticamente i ragazzi di Mass Communication, ho chiamato i ragazzi di battuta libera, ho chiamato qualche altro amico, siamo qui, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito, ci siamo detti dobbiamo fare qualcosa e oggi questo evento lo abbiamo portato veramente ad essere orgogliosi di aver fatto una cosa importante per questi ragazzi. La ricerca sta facendo grossi passi avanti. È stato sperimentato un farmaco due anni fa che è il Ticafico praticamente. Il 70% oggi ci attinge a questo farmaco e dà a loro la possibilità di avere una vita veramente migliore rispetto a prima. Ha migliorato notevolmente la qualità della vita. Stiamo lavorando e questi eventi servono appunto per questo, quindi noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo per forza fare, mettere a conoscenza tutti quanti che esiste questa malattia e che tutti quanti dobbiamo dare e fare qualcosa affinché questi ragazzi un giorno diventino adulti. Fellini diceva che la musica è pericolosa perché gli faceva paura, perché la musica non ha contenuti, la musica non parla di niente, non ha sostantivi, non ha verbi, è solo aggettivi, quindi anche questa sera suonando non è che io ci possa mettere un contenuto preciso di una malattia, di una medicina, ma quell'aspetto di aggettivi, di avverbi, quell'aspetto non direttamente pratico, non semantico, non verbalizzabile, è non meno importante dall'aspetto razionale. In campo anche una delegazione rossazzurra guidata dal presidente Rosario Pelligra e dal vice presidente amministratore delegato Vincenzo Grella. Presenti anche gli chef stellati dell'alta ristorazione Street Food, coordinati dallo chef Sebi Sorbello, coaduvato da Francesco Patti e Domenico Colonnetta e Vincenzo Latorre, che hanno acceso i fornelli nella piazza virtuale di Radice Pura, dove si sono incontrati con i pasticceri della Compait, capitanati da Peppe Leotta, i produttori di vino, i sommier dell'associazione AIS Catania. Ieri sera in chiusura è stato ufficializzato un importo che è stato raccolto poco più di 100.000 euro, di cui il 99% andrà alla ricerca. Domani a Valverde la presentazione del libro di Don Roberto Strano, un diario che racconta la sua esperienza missionaria in Brasile. La Chiesa, tradizionalmente, dedica il mese di ottobre alla missione. Quest'anno la celebrazione della giornata missionaria mondiale sarà domenica 22 ottobre e avrà come tema Cuori ardenti, piedi in cammino. La Diocesi di Acireale mette in atto diverse iniziative volte alla sensibilizzazione e alla preghiera per le missioni. Sarà a Valverde lo scenario della prima manifestazione organizzata dall'ufficio missionario della Diocesi, guidato dal direttore Don Orazio Sciacca. Mercoledì 11 ottobre, nella parrocchia Santuario Maria Santissima di Valverde, si terrà la presentazione della nuova pubblicazione del diario Obrigado Signor di Don Roberto Strano, un testo scritto in prima persona dallo stesso autore che racconta i giorni passati in Brasile. Viene dunque ripresentato questo diario, o come piace chiamarlo all'autore, appunti, a vent'anni esatti dalla sua prima esperienza missionaria nella terra delle favelas, vissuta dal 24 novembre al 6 dicembre 2003. Il diario racconta un'esperienza, un'esperienza che mi ha molto segnato e a cui ho fatto costante riferimento nei miei anni di sacerdozio, perché lì ho constatato la perenne giovinezza del Vangelo, ma anche l'estrema povertà e l'aiuto concreto da porgere alle persone. Quando pensiamo alle missioni, noi non dobbiamo mai entrare nell'ottica che stiamo facendo qualcosa per i più poveri, perché sono i più poveri che fanno qualcosa per noi, perché ci insegnano molto con il loro stile di vita, ma soprattutto con i loro atteggiamenti, i loro sorrisi, la loro gratitudine. Ecco, la missionarietà è una peculiare caratteristica della Chiesa, che tutti siamo chiamati a riscoprire ad intra e ad extra, perché si è missionari nelle proprie comunità, si è missionari lasciando le proprie sicurezze e andando in quelle parti più poveri del mondo, dove la prima povertà è l'assenza del Vangelo, che va portato ad ogni creatura. A Giardini Naxos sono stati stanziati fondi per l'elevatore per disabili di Via Vittorio Emanuele. A tal proposito, Mauro Romano ha intervistato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Giardini, Giuseppe Leotta. Il vicepresidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Leotta, oggi siamo all'elevatore di Via Vittorio Emanuele. Cosa accadrà nei prossimi giorni, Presidente? Beh, allora, intanto siamo molto soddisfatti, io e il consigliere Fichera, perché a seguito dell'interrogazione che abbiamo presentato proprio sui malfunzionamenti di questo elevatore, l'amministrazione incredibilmente ha cambiato idea, perché in aula l'assessore Sparta aveva addirittura messo in dubbio l'utilità dell'elevatorio, o comunque l'economicità di continuare con questo servizio, invece si sono convinti a impegnare con una determina del quarto settore, determina numero 469 del 5 ottobre, 2.500 Euro per garantire 12 mesi di manutenzione per questo elevatore. Ovviamente noi non ci fermiamo qui, perché vorremmo che effettivamente queste opere di manutenzione fossero continue nel tempo e che soprattutto durassero, che ovviamente l'ascensore non si costasse più e non costasse ulteriori soldi alla comunità, quindi su questo resteremo vigili e poi ovviamente chiediamo decoro anche per questo sottopasso che si presenta sempre sporco e maleodorante. A Giardini Naxos si parla anche di turismo, servono iniziative di qualità per incentivare la promozione turistica. Floriano Ippolito ha inaugurato la nuova sede di una delle attività più importanti dal punto di vista turistico. Di che cosa si tratta signora? Beh, direi che è un po' complesso spiegarle in due parole, perché qui abbiamo un centro di formazione, in realtà un'agenzia che si chiama appunto Flow Move, che si occupa di formare i dipendenti delle aziende. Poi abbiamo anche la sede di Federal Barri Giardini Naxos, con la quale facciamo promozione del territorio. Ed infine è sede anche di una scuola, l'ITS Fondazione Archimede. È un biennio specializzando in ospitali di management, dove i ragazzi diplomati vengono ulteriormente a formarsi per entrare poi nel mondo del settore turistico. Siamo quindi in un punto molto importante, perché da qui nascono le idee per promuovere il movimento turistico. Ecco, cosa proporre lei magari per la stagione 2024? Beh, intanto innalzare sicuramente il livello della qualità del personale che fa il turismo. Questo è fondamentale, motivo per cui noi abbiamo fatto questo centro di formazione, dare delle nuove skills, delle nuove competenze, affinché i giovani non fuggano da questo territorio, ma rimangano a portare avanti il turismo. E poi sicuramente dare un'attenzione maggiore alla promozione di attività di livello, di spessore, attività sicuramente culturali più importanti e che diano respiro internazionale alla nostra zona. La cronaca partendo da Palermo, importante operazione dei carabinieri che hanno azzerato tre piazze di spaccio allo Sperone. Sono state eseguite 18 misure cautelari. Tutti i dettagli nel servizio. A Palermo i carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 18 indagati, 15 dei quali sono finiti in carcere. Le indagini condotte da giugno a settembre del 2021 dai carabinieri delle stazioni di acqua dei Corsari e Brancaccio hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le investigazioni, sviluppate attraverso una mirata attività tecnica con monitoraggio e osservazione delle varie fasi dello spaccio, grazie anche all'ausilio di telecamere nascoste nei luoghi destinati alla vendita e cessione di droga, nonché a puntuali discontri eseguiti su strada, hanno consentito di dimostrare l'operatività di tre piazze di spaccio, tutte attive nel quartiere Sperone di Palermo, anche nelle immediate adiacenze di istituti scolastici, nelle quali gli indagati, protetti da vedette, avrebbero smerciato al dettaglio hashish, cocaina, crack e marijuana, avvalendosi di pusher, talvolta anche minorenni. Ricostruito anche il modus operandi degli spacciatori, i quali, con compiti ben definiti, si sarebbero occupati dell'approvvigionamento dello stupefacente, dell'occultamento della sostanza, delle cessioni al dettaglio e della raccolta dei proventi dello spaccio. Le piazze erano operative durante l'intero arco orario della giornata, con più spacciatori, anche minorenni, che si avvicendavano organizzandosi su turni. Sono stati raccolti indizi di colpevolezza a carico, complessivamente, di 36 indagati, di cui 18 destinatari di misura cautelare e 4 minorenni, tutti già noti alle forze dell'ordine. È stato stimato un volume di affari di circa 5.000 euro giornalieri. I carabinieri hanno monitorato oltre 9.000 cessioni di sostanze stupefacenti, segnalando oltre 150 soggetti, provenienti dal territorio dell'intera provincia, alla competente prefettura, quali assuntori di droghe. Sono state arrestate tre persone in flagranza di reato e denunciate altre sei. I militari dell'arma, inoltre, hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marihuana. Due ladri sono stati invece beccati e denunciati a Catania. La Polizia di Stato, nel corso dell'ordinario servizio di controllo del territorio, ha deferito all'autorità giudiziaria diverse persone responsabili di varie tipologie di reati. Nello specifico, personale delle volanti ha risposto a una richiesta di ausilio pervenuta al 112, con la quale è stato segnalato un furto in atto di un'autovettura parcheggiata nei pressi di via Ventimiglia. Il richiedente, residente in zona, ha specificato di aver udito un forte rumore di vetri infranti e di essersi affacciato al balcone, notando due uomini intenti a rovistare all'interno dell'auto. Nel frattempo, una volante, giunta sul posto, ha intercettato, grazie anche a una dettagliata descrizione fornita dal cittadino, i due uomini intenti ad allontanarsi dal luogo del furto. In particolare, uno dei due, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un sacchetto di colore nero, buttandolo sotto un'auto in sosta, poco prima di essere fermato dagli agenti, unitamente al complice. La perquisizione personale effettuata successivamente ha permesso di rinvenire addosso a uno dei due un dispositivo in frangivetro, due grimaldelli e un coltello, oggetti evidentemente utilizzati per forzare l'auto in sosta. Inoltre, all'interno del sacchetto gettato a terra e prontamente recuperato, sono state rinvenute quattro buste in plastica con all'interno numerosi portafedi. Intanto, un altro equipaggio di volante ha proceduto al controllo dell'autovettura forzata dai due uomini, la quale si presentava con un finestrino in franto. All'interno del portabagagli, gli operatori hanno trovato una busta contenente portafedi dello stesso tipo di quelli trovati addosso ai due uomini, ulteriore elemento di conferma circa il furto perpetrato. Dopo le formalità di rito, i due soggetti, un 35enne catanese e un 33enne tunisino, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso e solo il tunisino anche per il reato di porto di oggetti atti a offendere. Per il momento è tutto, a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie per la visione!